ciao a tutti i salmoni e bentornati sul nostro canale oggi come avete letto dal titolo siamo in compagnia di mia madre per fare il pane alle patate e iniziamo subito con il libidino intanto chiedo alla regia di inguadrare bene questi ingredienti qui ok iscriviti al canale mettiamo a bollire le patate per il pane no 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti